Gianluca Zelli si dimette da coordinatore regionale di azione politica dopo lo scontro per l'assessorato in giunta e spara a zero sul neopresidente della regione Marsiglio. Il coordinamento del movimento passa ora ad Angelo Dottavio che ne diventa reggente. Ieri l'incontro ha parlato di imboscata, perché? Perché assolutamente era un incontro preparato. Farò politica da due anni ma faccio trattative da 26. Sto a riconoscere molto bene quando mi trovo in una situazione in cui tutti hanno deciso come c'è un detto che non mi ricordo neanche chi ha detto quando ti giri intorno e non capisci chi è il pollo, il pollo sei tu. In una riunione di giunta quando si passano i primi 45 minuti a parlare dell'aumento degli assessori da 6 a 8 è perché a qualcuno deve essere promesso qualcosa che non succederà mai. Quello a cui andava promesso qualcosa ero io che chiaramente non ho accettato perché non è che noi non siamo d'accordo sull'allargamento degli assessori se noi non siamo in giunta e poi siamo d'accordo se invece siamo in giunta. Noi non siamo d'accordo né stando in giunta né fuori. Zaili l'ha espresso parole molto dure nei confronti del governatore. Cito parole sue che ha detto poco prima. Gli abruzzesi impareranno a conoscere Marsiglio. No, me ne assumo e le ripeto. Per le persone di destra l'onore e la parola era una cosa seria. Io ho stretto una mano a una persona che in teoria l'ha stretta agli abruzzesi chiedendogli il voto e quella mano è stata disattesa. Sono stati chiesti dei testimoni che erano presenti e sempre gente di destra di questa regione. Io quello che prevedo è che sia disatteso lo stesso patto, lo stesso stretta di mano che lui ha fatto con me, fatta con gli abruzzesi, succederà la stessa cosa. Una persona non riesce a mentire così bene. Per fare una cosa del genere devi essere così. Non puoi guardarmi negli occhi come lui ha fatto ieri mattina senza un brivido, senza un cambio di volto. Zelli si riferisce in particolare a un incontro con Marsiglio dello scorso 11 febbraio. La coalizione non era al corrente perché lui mi aveva chiesto di non farlo perché altrimenti poi sarebbe stato in difficoltà per poter discutere con tutti i partiti. Secondo me invece Bellaghioma ha fatto un passo avanti perché non essendo d'accordo sul tavolo lui ha detto rinuncio all'esterno a due condizioni. Uno chiaramente di avere i quattro assessori e due che sia Zelli l'assessore. Bellaghioma, non certo per favorirmi ma perché a quel punto effettivamente stiamo parlando di tre posti per tre consiglieri quindi mi sembrerebbe pure che rifiutasse. Quindi toccava a lui. Lui poteva tranquillamente chiuderla dicendo che è a posto il sesto di azione politica come da accordi. A Marsiglio cosa vuole dire? Niente. Io ho risposto ieri sera al telefono dicendo che gli rispondevo solo per la responsabilità istituzionale che ha perché mi chiama il presidente della regione. Ho risposto solo a lui per l'ultima volta perché non ho niente da dirgli e l'ultima cosa che gli ho detto ieri sera. Azione politica uscirà dalla maggioranza in consiglio decideranno Dottavio e i suoi, ha ribadito Zelli.